Nelle scorse settimane in Sardegna si è sviluppato un dibattito avviato dalle associazioni agricole sulle modifiche al disciplinare di produzione del pecorino romano DOP con la richiesta che venga assicurato anche in futuro l'utilizzo di latte proveniente da pecore di razza sarda. Il Consorzio del Pecorino Romano in una nota nei giorni scorsi aveva precisato tre aspetti. È la prima volta che viene introdotta una percentuale sulle razze all'interno del disciplinare con l'obiettivo di garantire almeno il 90% di razze autoctone. Il secondo punto è stato il Ministero dell'Agricoltura a consigliare al Consorzio di prevedere una quota di contaminazione delle gregi a tutela e in primo luogo degli allevatori. Il terzo punto è più importante, non è una questione che riguarda il latte ma solo le gregi. Il latte utilizzato per il pecorino romano sarà sempre solo quello delle zone di produzione, vale a dire Lazio, Sardegna e provincia di Grosseto. Sul tema oggi interviene con una nota l'Associazione Allevatori della Regione Sardegna con la quale rileva che il dibattito attuale sulle modifiche al disciplinare ha fatto emergere, come oggi non esista, un quadro completo ed attendibile su tutte le razze presenti negli allevamenti sardi. L'Associazione per questo si mette a disposizione per un'eventuale assistenza a quale soggetto titolato a verificare le razze presenti negli allevamenti, nonché la consistenza o la numerosità dei loro incroci. Questo censimento generale delle razze da pianificare con l'Associato Regione dell'Agricoltura e i consorzi di tutela e l'Agris consentirebbe, rileva l'Associazione Allevatori, di aggiornare la Banca Dati Nazionale e la Banca Dati dei Libri Genealogici fornendo una mappa di come si stia evolvendo il settore ovino in Sardegna.